Permesso, grazie, scusa. Sono queste le parole indicate da Papa Francesco per vivere bene in famiglia. Quasi un abecedario dunque che racchiude la forza di custodire la casa anche attraverso mille difficoltà e prove. Parole semplici eppure talvolta difficili da mettere in pratica. Così quando chiediamo permesso ci preoccupiamo di chiedere gentilmente anche quello che magari pensiamo di poter pretendere. Usiamo un atteggiamento non invasivo che rinnova la fiducia e il rispetto. In un mondo poi dove le cattive maniere e le cattive parole sono declinate non di rado pubblicamente bisogna diventare intransigenti sull'educazione alla gratitudine perché un cristiano che non sa ringraziare è uno che ha dimenticato la lingua di Dio. Infine la terza parola grazie. In questo orizzonte il pontificio ha chiesto alle coppie di non finire mai una giornata con il risentimento nell'anima per una discussione. A tutti Papa Bergoglio ha chiesto di coltivare la buona educazione. Però attenzione, nella storia abbiamo conosciuto anche un formalismo delle buone maniere che può diventare maschera che nasconde l'aridità dell'animo e il disinteresse per l'altro. Si suole dire, dietro tante buone maniere si nascondono cattive abitudini. Nemmeno la religione è al riparo da questo rischio che fa scivolare l'osservanza formale nella mondanità spirituale.